Musica Detto questo, io direi di partire con la prima multisummon Brule anima, speriamo in una Brule anima, speriamo in una Brule anima Prima Subito, che avevano detto? Pike one, che è il quinto o sesto, vabbè dai, vai Ma è la garantita, ho piccolo e freezer insieme Questa era la garantita mi sa, questa era la garantita Ottava Chit, Kugon, Vegito, Chit, Kugon, Vegito Chit, Kugon, Vegito Chit, Kugon, Vegito Sì, sì Terza Eh, poteva essere qualcun altro Ottava, mi dai una Vados? Non era garantito, non era garantito Sì, buono, 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 buono Buono, 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 buono Credo sia la garantita questa Chit, Kugon Ciao, ciao, Gohan, è stato bello Prima Sparking però Allora, diciamo che già va bene Come al solito per me Broly Animation quasi inesistente Almeno per fare il titolo su YouTube potevi darmi la Broly Animation Oh mio Dio, Broly Animation E poi ci trovavo Vegito LF dentro Che però fa Brodo per me Caspita, questo è un peso che io mi sono tolto in realtà dal gruppone Cioè, devo Potrebbe essere così, lo sapete? E si go, posto Abbiamo finito Top È vero, è vero Due CP Compresa una nuova Vediamo Vediamo Ah, tra l'altro abbiamo anche due ticketini Sparking garantita Perché sì I ticket misteriosi dei mille giorni Tra l'altro Celebrazione ancora non iniziata Cioè che inizierà la settimana Oh, comunque No, niente Stavo per Dio Ho un po' di acciaio Non è che mi caccia subito una Broly Animation No, comunque Sparking Ma dai Ma dai Ma perché? Ma ho appena finito di ti state fermo Oh, sono un'altra Va bene Due LF Di cui una, vabbè, che non ci interessava Probabilmente anche questa Oh Ma c'è Ma Ma Nostradamus Nostra Blazzi Sono diventato Non hanno messo un nuovo extreme Vero? Non lo so Mi pare di no Comunque Abbiamo una Sparking garantita dentro Vediamo Vediamo Bene Eccola qui Ma che Ma che Ma che Ma che Basta Allora volevamo fare la multi da 10 Sì Non se ne parla più Multi da 10 Il badisco non è uno dei quei classici banner dove puntare Un PG Trunks e Mai Va benissimo così Allora era già uno Era il personaggio che praticamente più puntavo Perché puntare a Rosé onestamente Non è troppo realistica come cosa Trunks e Mai già mi vanno benissimo Prossima Vediamo Buona Buona questa multi Buona Già abbiamo iniziato bene Abbiamo iniziato bene Con la nuvola Se vediamo la nuvola Potremmo già iniziare a dire 50% LF Circa Poi non lo so quanto Potrebbe essere in realtà Ma la Blue Animation Ciao È stato bello ragazzi Mamma mia mi era venuto un colpo al cuore Non avevo idea Oh e comunque il colpo al cuore me lo potevi far venire Gioco maledetto Gioco maledetto me lo potevi far venire Veramente il colpo al cuore Ciao la misera 3 stelle M'interesse Cioè Questo pur se fa 7 stelle Mi interessa veramente ben poco Non mi va di investirci così per lo Zenkai Cioè Che è sta musica? Ma che è partita la musica qua? No aspetta Vi to read C'ho la bottiglia già inclinata Te lo dico Ce l'ho già inclinata Legends Ce l'ho già inclinata Vedi tu quello qui Dove va? Prima sparking giocata però c'è una LF qui dentro Anche se ragazzi c'è tanta roba che me ne serve proprio Beh la sto chiamando Me la sto tirando addosso Vegeta ci chiama la sparking Ecco qui con Vegeta Vabbè Oddio eppure siamo andati bene con Freezer E ribadisco Questo è fake out Vediamo Kefla Kefla va bene Dai va bene Ci abbiamo almeno due nuovi Sparking non schippabile No ma Sharon è vero Quando è la nuova unità non è schippabile Allora era questo Non me farò si cace Eppure il cielo Dammi la Broly Animation Che sbocciamo Potremmo sbocciare Vabbè 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 Allora Non è lui Legends Limited Ce la siamo giocati Vegito Vegito Parpo Vegito Parpo Guarda la mia fortuna Che siamo fratelli Oddio Vai a cacare No no Me lo so chiamato Avete capito perché Perché non è uscito scritto skip sopra Io Broly non lo tengo E quindi ecco qui L'abbiamo fatta la figuraccia Top Ma va La madòi ragazzi Se non c'è Gogeta qua dentro Mi Mi miro No 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 Perché veramente Non c'è sta qua dentro Non facciamo promesse Che non possiamo mantenere Non facciamo promesse Oddio SIII SIII Non mi è viro Non mi è viro Non mi è viro SIII Cacciuta SIII SII E voi sapete che vado a fare La prima cosa che vado a fare Mi vado a fare gli Zenkai dei Super Saiyan 4 Yes Un'altra Oddio Mamma mie Mamma mie Ragazzi lo stesso Il sogno incredibile Ok Vediamo Va bene comunque Dai va bene Va bene comunque Mamma mia infarto Per favore dammi conceda Mi sento male Ti giuro Mi sento male Legends mi senti male se mi dai Gogeta Piango Mi viene da piangere se mi dai Gogeta Piango per favore Vaffanculo Doppia voce pure ha fatto C'è ancora un altro Dovrebbe essere uno nuovo Vediamo Uno fra i due draghi E Gogeta Dubito sia lui Sì Sì È successo Trovate Non ce l'ho Questa è Bojack o Trunks Trunks va bene Va bene va bene va bene Ok Bojack Ce l'abbiamo questa Buono Buono lo stesso Buono lo stesso Ci sta Ci sta Ma che è? Ma è il Mirai questo Per forza Ragazzi questa è la LF Vegeta mi ha portato LF Multi fake out Multi fake out Vi giuro ho infartato Ho detto mamma mia è uscito Broly Ho infartato Ma come nuvoletta Ma nuvoletta Nooo Eccolo Sì Bella Jiren Bravo Allora voi Vi giuro Questo personaggio Sembra veramente bello Sembra veramente bello E se troviamo pure Vegeta Raga Godiamo Perché io vorrei seriamente Vabbè ma questa è la multi della vita Nooo Eccola Chi è? Va bene Va bene Sì va bene Va bene sì Bene Bene Madonna quant'è su P Oh No No Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Ce la possiamo Non c'era Ma Gogeta E Gogeta Mi serviva lo volevo Va bene 3 stelle E ancora poco E un inizio Buono Gogeta Vediamo due secondini Questa qui da quant'è come molti Da 3 personaggi Da 5 Oh giro by extreme Fermi tutti Fermi tutti Perché qui cambia la storia Buono giro by extreme Perché pare pure sia Bello forte questo qui A livello di kit Vabbè dai Non lo so se è scammato Onestamente ragazzi Non lo so se è scammata Vediamo un attimo E' rosè E' mica male E' mica male 4 stelle Ma non lo tengo onestamente Che problema Questa è proprio Vegeta Guardate Vedete come è Vegeta Eeeh Altro fake out Questa è una Legends Limited Ah Piuttosto che prendere quel ticket Mi faccio Un'altra multi La free E chiudiamo qui Ma niente Chiudiamoci sto giro seriamente Ah ragazzi Perdonatemi Sono rimasto un po' interdetto Onesto Perché tutto mi aspettavo Forchetti Che ci fosse una LF All'interno di quella multi Ma soprattutto Che ci fosse Vegeta Poi Cioè non è stato Allora Se fosse stato Tiserato in qualche modo Minimamente L'Amatoi Ma cosa Ma cosa Ma che cosa Ma cosa Vediamo Vediamo Ma vi giuro Non so per quale motivo Non me lo ricordo minimamente Subito Sparking Vediamo Legends Limited Piccolo LF Che ci passa Zenkai Va bene Vabbè Per un attimo Ci ho sperato Eccolo qui Legends Limited Nuboletta prima Quest'SL Ma Gianfra io sto andando piano Per farti soffrire Non hai capito Mi fai un po' soffrendo Ma quando stiamo Questa è l'ultima Gianfra Non è La Sparking Non arriva Eccola Sparking Legends Limited No Gianfra Ma qua non è possibile Gianfra Ma sempre questo Ma com'è possibile Gianfra Un personaggio Che ho trovato Oltre Oh Gohan Almeno Gohanetto Dai Gohanetto piccolino Vabbè Ci può stare Ci può stare Fake out Per favore Gohan più Cell No Va bene lo stesso però Va bene lo stesso Va bene lo stesso Goku Super Saiyan qua Va bene lo stesso Dai Va bene lo stesso Dai Sarebbe stato ancora peggio Va bene lo stesso Va bene lo stesso Non guardo No Legends Limited Questo è piccolo No Lo so che tu mi schifi Broly Lo so È risaputo Questa è stata brutta Questa è stata molto brutta Ma non gli devi fare Stan Transmitter Aspetta che arriva Broly Broly Fermi Fermi Vegeta Blue Mi hanno detto che LF è garantito Vegeta Blue Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Ma perché mi sta a fa' flash È un'altra porta Ma perché Ma perché Ma perché è sempre Gohan Ma perché Ma io mi stello Gohan in sti banner Ma mi pare possibile Ma mi pare possibile una cosa del genere C'era veramente l'LF dentro Power Bojack va bene Ok altri SP Facciamo finta di non aver visto nulla Meno una sparking dovrebbe esserci Ma sarebbe strano il contrario In realtà sarebbe strano fare una multivuota Oh il nuovo Broly Va bene va bene Ce lo prendiamo tranquillamente Back out vediamo Skip questa multivuota Mamma mia però non mi puoi dare Cioè non è possibile Non mi puoi dare l'LF che trovo Che c'ho già stellate Fake out Gianfra Sono tutte sparking Legend limited Broly Broly ma che non l'avevi? Non ce l'avevo Quindi Gianfra per me va benissimo Spacchiamo sto Freezer Goku Però non ci basta Fake out pure vai 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 Fake out subito Legends limited bello eccolo 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 ma la prima copia di questi l'ho pigliata in back out e la seconda con quest'altra animazione terribile ma di che cosa stiamo parlando va bene va bene va bene zenkai zenkai vabbè finalmente finalmente una cosa buona mannaggia una cosa buona che non sia black e rosy assist eh scusa black e rosy assist una cosa ma dove che multi però ancora ma quanto ce ne stanno ma no goten basta basta fra oh ma che fai ma che fai goten di merda questa seconda multi anche sembra che stia andando male abbiamo comunque mi fa piacere devo essere onesto mi fa molto piacere credo sia così cioè io l'ho riassunto un attimino così a livello di rate bello allora due legends limited vanno benissimo tutte e due che mi interessavano tantissimo vediamo la eccolo ecco si e c'è bisogno manco più si gogetta ma gogetta così è la magia del natale è la magia del natale ma gogetta così per stellicchiarlo un pochino seriamente andiamo legends limited ok va bene oh 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 si si oh me l'avevo detto che avevo detto che puzzava bello 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 ci sta bene così bello 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 wow wow e abbiamo predictato pure il gogetta dentro e avevo detto mmm spedetto puzza c'è troppa puzza profuma era un misto fra puzza e profuma tutto questo scusatemi vi ho distrutto le orecchie scusatemi perca miseria bello bello wow wow va bene si lo finisco il giro ragazzi lo finisco non vi preoccupate lo finisco lo finiscono altre mille ci facciamo due multi non si sa mai non si sa mai poi comunque allora noi gogetta l'abbiamo trovato e va benissimo così allora c'è sta cosa di Tao io non l'ho capito onestamente però molti si esaltano quando vedono Tao ma parecchio si esaltano non l'ho capito perché no c'era tipo una combo Tao più oh mio Dio back to back ultra back to back ultra non l'ho capito Infatti non ci sono state mezze misure Questa serata Quello è il problema Che Va bene Non posso bere Non posso bere